Un dépliant pregevole con le offerte culturali e di puro svago organizzate da chi opera in città. C'è il TIB con la terza edizione del Cielo Sopra Belluno, il Teatro Sotto le Stelle, il Festival Intergenerazionale Multiculturale Io Gioco, c'è la musica classica, lirica e rock'n'roll proposta dal Circolo Culturale Bellunese, il concerto e evento di Raffael Gualazzi a Malga Faverghera di Scoppio Spettacoli e Consorzio Dolomiti Prealpi e poi cinema, ancora teatro con le bretelle LASC e le proposte della Proloco Pieve Castionese, le visite guidate con Marta Azzalini e l'Associazione Campedel, la lettura delle officine della cultura, Palazzo Rosso e Fondazione Teatri delle Dolomiti a fare da collettore di un'iniziativa poliedrica e policentrica. Poliedrica perché l'offerta culturale è molto variegata e di diverso tipo per tutte le età e per tutte le generazioni e policentrica perché non si focalizzerà soltanto all'interno del centro storico ma girerà letteralmente, è itinerante, arte in movimento, il titolo rassegna per molte delle frazioni bellissime di cui si connota il nostro territorio urbano. Un cartellone unico pensato sia per i residenti che per i turisti che abbraccia tutte le sfumature dell'anima di Belluno. Questa è la prima volta dopo tantissimi anni che si riesce a fare un calendario di questo tipo ma soprattutto di contaminazione tra professionalità e tutto quello che è il teatro, la musica amatoriale. Il debutto questo pomeriggio con le chicche di musica pop italiana dal 40 al 70, giovedì in centro storico la prima di Belluno di sera, svago e shopping fino alle 23. Questa verrà affinata con ulteriori iniziative da parte dell'amministrazione comunale nella parte finale del mese di agosto e dei primi di settembre, proprio per dare un ulteriore valore aggiunto a una rassegna importante.